Volley Club Schacca ha ancora protagonista nel campionato di Serie C maschile Girone A. Il sodalizio di Graffeo e Marchese ha espugnato infatti il campo del Mazzara del Vallo nella terza partita di questa prima fase. Eppure il match era cominciato male con i padroni di casa che avevano vinto il primo set con il parziale di 25-18. Poi la reazione è la rimonta dei seccensi che si sono imposti nei successivi tre set per 23-25, 21-25 e 9-25, portando a casa tre punti preziosi. Fino a questo momento, su tre incontri, il Volley Club Schacca ne ha 22 perdendone uno. Non si arresta la marcia della capolista e favorita Terrasini che si è imposta nettamente per 3-7-0 sul campo del club Leoni Palermo. In classifica generale, dietro la capolista Terrasini, a punteggio pieno, c'è proprio lo Schacca con 6 punti, a pari merito con il Partinico. Chiudono la classifica del Girone, il club Leoni Palermo con 3 punti e il Mazzara ancora senza punti. Per il sodalizio di Enzo Graffeo e Nino Marchese si torna in campo domenica prossima 28 marzo, alle ore 17.30, in casa alla Sicilia Sport contro il Maverick Partinico. Un vero e proprio spareggio per ottenere la seconda piazza in solitaria. A seguire poi ci sarà la sosta, in virtù delle festività pasquali. Grazie. 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 Grazie.